Alessandro Verona dopo Italia-Spagna, sconfitta 4-3 nell'ultima giornata della fase A-Gironi. Sconfitta come l'hai preso tu? Alessandro, un'Italia che è andata sotto 2-0 alla fine del primo tempo, è riuscita a rimontare, ha subito subito il 3-2 della Spagna, però è riuscita nuovamente ad arrivare al pareggio, poi il gol del 4-3 a 3-15 dalla fine, ecco un'Italia che comunque ha giocato la pari con la formazione iberica. Sì, siamo dispiaciuti perché sapevamo che avevamo due risultati su tre, quindi l'avevamo portata quasi in fondo, siamo stati un po' ingenui a gestire la partita alla fine, niente, a regalare una bella parte del primo tempo a loro, siamo entrati male il primo tempo, abbiamo giocato maluccio, però dopo il secondo siamo arrivati tante volte in porta e secondo me il pareggio era giusto, però alla fine abbiamo preso quel gol lì, niente, dobbiamo imparare da queste piccole cose che sono quelle che ti portano a vincere un nuovo mondiale. Siamo amareggiati, ci dispiace, però ora domani abbiamo un giorno di riposo, poi pensiamo a quarti di finale che saranno un'altra dura battaglia perché per arrivare in semifinale c'è quella partita lì e dobbiamo pensare solo a quella. Ecco, infatti Alessandro andai subito ad analizzare il quarto di finale perché Italia-Angola sarà un match decisamente, non è un match sicuramente semplice per voi. No, lo sappiamo benissimo, tutte le partite che ultimamente abbiamo fatte con l'Angola, ci ricordiamo che l'ultimo mondiale siamo quasi usciti a quarti, se non per una rimonta nel secondo tempo, e quindi l'Angola è ancora più forte di quella, quindi dobbiamo arrivare lì, portargli rispetto e dare il massimo con una cosa, vorrei ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto oggi perché ci ha dato una mano veramente grande, soprattutto a rimontare il 2-0 iniziale. Li inviti anche per la partita dei quarti, ti piacerebbe rivedere 3.500 persone, questo è il dato che abbiamo a nostra disposizione a tifarvi e a sostenervi nel match contro l'Angola. Certo, sicuramente, oltre a sostenerci, a darci una mano, perché un giocatore in pista lo sente, è anche un grande spettacolo, una grande promozione per il nostro sport. Ecco Alessandro, una valutazione, però l'Italia ha giocato quasi la pari, ha giocato la pari con la Spagna e questo è un risultato che può far bene anche moralmente, perché va bene il risultato non è stato quello desiderato, però la partita alla fine comunque ha visto due squadre che si sono equivalse, quindi vuol dire che l'Italia c'è e come? No, sì, sappiamo che loro sono più forti, però secondo me bisogna smettere di essere contenti e di accontentarci quando, come stasera, perdiamo una partita perché ce la siamo giocata. Bisogna cominciare a dire che quando si perde non dobbiamo essere contenti, bisogna aspirare sempre di più a fare meglio e ad ottenere risultati migliori perché abbiamo le possibilità, dobbiamo avere più determinazione a migliorarci.